A DSL quanto mi costi. Questo potrebbe essere il ritornello ricorrente di numerosi cittadini bicegliesi alle prese con l'assenza di linea DSL nelle rispettive zone di residenza o di lavoro, costretti a stipulare contratti con società private, erogatrici del servizio, a costi insostenibili. Abbiamo raccolto la testimonianza di un imprenditore bicegliese che lamenta questo insopportabile problema e che si è fatto portavoce delle istanze e degli imprenditori della zona artigianale di Biceglie. Capita anche nell'era della globalizzazione tecnologica e informatica di incappare in alcuni disservizi, in alcuni disagi che rappresentano un grave e grande ostacolo alla professionalità, alla quotidianità di chi lavora in una zona come quella dove ci troviamo quest'oggi, la zona artigianale di Biceglie, dove appunto la linea DSL manca. È così il signor Michele Lo Sapio? Sì, in effetti è proprio così, perché paradossalmente ci troviamo oggi in una zona artigianale come Biceglie che non è coperta dalla zona DSL, quindi con notevoli disservizi per chi ha la necessità di lavorare con internet. Questo è un problema individuale o diffuso qui in zona? E a me è molto diffuso, perché ho avuto modo di parlare con i miei colleghi o persone che lavorano qui in zona e hanno il mio stesso problema. Ormai la capacità di raccolta utenze delle centraline ADSL nella zona artigianale e in parte del popoloso quartiere periferico di Sant'Andrea è satura da tempo. Già dopo l'installazione da parte di Telecom, dei cosiddetti zainetti da 48 utenze ciascuno, la zona è ripiombata nella stessa annosa questione. Che risposte avete avuto dalle società? Le società che abbiamo interpellato ci hanno dato tutte la stessa risposta, che non è possibile avere la linea DSL qui in zona. E quindi come si va a sopperire a questa mancanza, a questa carenza importante? In un primo momento ho cercato in vano di interpellare le istituzioni locali per cercare di trovare comunque un modo per fuorviare a questo disagio. Ma visto che le istituzioni erano sorde alle mie richieste e quelle dei miei colleghi, ho dovuto interpellare delle società private che, avendo in appalto delle linee dal gestore pubblico, mi hanno dato la possibilità di poter usufruire di una linea DSL. Con costi immagino abbastanza esosi? Molto esosi. Vi dico soltanto che i primi due mesi, da quando ho installato questa linea DSL, ho pagato, ho dovuto sborsare una cifra di intorno ai 1000 euro. Michele Losapio, che aveva pensato di trasferire la propria attività nella zona Asi di Molfetta, dove il Comune ha assicurato la linea wireless gratuita per le aziende presenti, propone pertanto una soluzione. Bisognerebbe sollecitare il Comune di Biceglie, perché la questione potrebbe essere risolta molto facilmente con delle piccole antennine wireless che danno la possibilità a chi ne ha bisogno in zona di poter navigare su internet liberamente.